Football Leader riparte da Napoli. L'evento organizzato dalla DGS Sport e Cultura, assieme all'Associazione Italiana Allenatori Calcio di Renzo Ulivieri, lascia Amalfi dopo quattro anni e si trasferisce in città. Questa mattina la presentazione della manifestazione che celebra i migliori interpreti del calcio e coloro che si sono distinti per qualità tecniche e umane. Presso l'Hotel Continental la consegna del premio Leader per sempre allo storico capitano dell'Inter Zanetti che ha ricevuto dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris il gagliardetto della città. Io ho una particolare simpatia per Zanetti perché oltre a essere stato un grandissimo calciatore è anche una persona dal volto umano, per bene, che fa solidarietà e interpreta al meglio l'essere campione non solo sul campo ma anche fuori. Io ho la storia mia del tifo dell'Inter è stata da me raccontata quando feci la prima intervista calcistica quando ho mai candidato a Sindaco. Io fino a 12-13 anni sono stato tifoso dell'Inter perché mio padre era non tifoso, tifosissimo dell'Inter di Herrera e chiaramente i bambini all'inizio vanno appresso al padre, poi i bambini diventano adolescenti e divenuto adolescenti a Napoli non puoi che essere tifoso del Napoli e da quell'anno sono stato sempre tifoso del Napoli. Ha canito molto negli anni dall'84 al 90 con l'abbonamento in curva B, poi dopo un tifoso che ha seguito come sempre adesso da Sindaco, sto là da primo cittadino sempre allo stadio a fare il tifo ed è entusiasta del calcio di Sarri, di questa squadra. Se manteniamo questa ossatura magari con qualche piccolo innesto io credo che l'anno prossimo il Napoli può veramente puntare allo scudetto.